Maestro Raffaele Panariello, un'autentica opera d'arte qui alle nostre spalle, che cosa rappresenta il suo tappeto? Allora, rappresenta Preghiamo. Preghiamo per la pandemia che ci è capitata purtroppo e l'ho voluto anche rappresentare proprio al centro del tappeto. Ci sono i personaggi, c'è il San Vincenzo Romano, c'è l'Immacolata e il nostro carissimo Don Giosuè in atto proprio a pregare contro questo male. Poi teniamo degli angeli, questo bambino in primo piano che è un angelo che rappresenta la purezza e in alto ci sono le colombe che vogliono rappresentare proprio la pace. Ricordiamo come viene realizzato questo tappeto? Allora, per quanto riguarda la realizzazione, viene realizzato con secatura, mischiata a pigmenti di colore e poi si inizia da sopra e piano piano si lavora fino ad arrivare nella parte inferiore del tappeto. Piano piano e senza, solo per caduta e non c'è niente che viene incollato. Praticamente con una mano possiamo cancellare tutto quello che abbiamo fatto. Quanto tempo lei ha impiegato per realizzarlo? Lavorando solo di pomeriggio ci vuole un mese, però lavorando dalla mattina alla sera un 20 giorni si riesce a completare. Dal 2018 non venivano più realizzati i tappeti? L'ultimo lavoro che ho fatto è nel 2018, proprio per la santificazione del Beato Vincenzo Romano. Ed è una tradizione molto antica di questa città? È una tradizione che risale alla festa dei Quartaltari, che venivano fatti in cinque chiese, cinque tappeti con questa tecnica. Si può dire che prima della tecnica della secatura venivano fatti i tappeti realizzati con i petali di fiori. Quindi l'infiorata che poi con il tempo abbiamo sostituito i petali con la secatura perché noi torresi siamo amanti del particolare. Fino a quando sarà visitabile, in che giorni e in che orari? Allora, è visitabile fino al giorno 11 sempre di pomeriggio, dalle 6 alle 8. Tranne la domenica e il sabato che si può visitare anche di mattina. Grazie per la visione!